La prima epistola di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Capitolo 1 Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. La prima epistola di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con grande pienezza di convinzione. E infatti voi sapete quello che siamo stati fra voi per amore vostro. E voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, con allegrezza dello Spirito Santo, talché siete diventati un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Poiché da voi la parola del Signore ha eccheggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, talché non abbiamo bisogno di parlarne perché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'idio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliuolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Capitolo 2 Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata in vano. Anzi, sebbene avessimo prima patito e fossimo stati oltraggiati, come voi sapete, a Filippi, pure ci siamo rinfrancati nell'iddio nostro per annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Poiché la nostra esortazione non procede da impostura né da motivi impuri né è fatta con frode, Ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da Cupidigia. Il Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini né da voi né da altri, quantunque come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i propri figlioli. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto l'Evangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate divenuti cari. Poiché, fratelli, voi la ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Egli è lavorando notte e giorno per non essere d'aggravio ad alcuno di voi che vi abbiamo predicato l'Evangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso voi che credete. E sapete pure che, come fa un padre coi suoi figlioli, noi abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a condursi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. E per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma, quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Poiché, fratelli, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso e il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Quante a noi, fratelli, orbati di voi per breve tempo, di persona, non di cuore, abbiamo tanto maggiormente cercato con grande desiderio di vedere la vostra faccia. Perciò abbiamo voluto, io, Paolo, almeno, non una, ma due volte venire a voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra allegrezza, o la corona di cui ci gloriamo? Non siete forse voi nel cospetto del nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, la nostra gloria e la nostra allegrezza siete voi. Capitolo 3 Perciò, non potendo più reggere, stimammo bene di essere lasciati soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio, nella propagazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo fra voi, vi predicevamo che saremmo afflitti, come anche è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anche io, non potendo più resistere, mandai ad informarmi della vostra fede, per tema che il tentatore vi avesse tentati, e la nostra fatica fosse riuscita vana. Ma ora che Timoteo è giunto qui da presso a voi, e ci ha recato liete notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che serbate del continuo buona ricordanza di noi, bramando di vederci come anche noi bramiamo vedervi, Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, in mezzo a tutte le nostre distrette e afflizioni, mediante la vostra fede. Perché ora viviamo se voi state saldi nel Signore. Poiché quali grazie possiamo noi rendere a Dio a vostro riguardo, per tutta l'allegrezza della quale ci rallegriamo a cagione di voi nel cospetto dell'iddio nostro, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di potere vedere la vostra faccia e supplire alle lacune della vostra fede? Ora il Dio stesso, nostro Padre, e il Signore nostro Gesù ci appianino la via per venire da voi, e quant'è a voi il Signore vi accresca e vi faccia abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso voi, per confermare i vostri cuori onde siano irreprensibili in santità nel cospetto di Dio nostro Padre, quando il Signore nostro Gesù verrà con tutti i Suoi Santi. Capitolo 4 Del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vi è più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dato per la grazia del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono i Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e in vero voi lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, che vi è più abbondiate in questo, e vi studiate di vivere in quiete, di fare i fatti vostri, e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, onde camminiate onestamente verso quelli di fuori, e non abbiate bisogno di nessuno. Ora, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormano, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo, e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Capitolo 5 Ora, quanto ai tempi ed ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre sì che quel giorno abbia accogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano, si inebriano di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore è preso per elmo la speranza della salvezza. Poiché il Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi null'altro come d'altronde già fate. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora, l'iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Grazie. 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 Grazie.